Grazie per il tremo e mi so che andate in passato a un disco che ha un'attività di una musica di università e le naite. e sicuramente i nomi di Giamani sono stati commossi dal fatto che la nostra ricerca ha incontrato una passione reale da parte degli studiatori che non avremmo aspettato questa misura non era più capitato da tempo di sentire applausi perfetto, grazie allora una richiesta mettete la mano sul bicchiere che non si annaccia il vino grazie allora premio per la miglioratrice Azzello Lencio per Mula Sakunga a non usare via grazie che compagnia ragazzi eccolo qui allora legge la motivazione il nostro presidente vai sotto la pioggia attento non all'acquare tutto grazie a tutti 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 grazie a tutti